40 giorni di tempo per far pervenire alla regione i pareri sulla grande Pescara. E' la tempistica dettata dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso e i primi cittadini dei tre comuni coinvolti nel progetto di fusione Pescara, appunto Montesilvano e Spoltore. Tempistica che per usare un eufemismo sta lasciando perplessi i rappresentanti dei comuni perché stretta tra le festività natalizie e le votazioni sul bilancio. Dicembre infatti è un periodo nero per le amministrazioni comunali ma la lettera di D'Alfonso è il carattere perentorio dell'ultimatum. Nella riunione di qualche giorno fa lo stesso D'Alfonso aveva invitato i sindaci e tutti gli attori coinvolti nella nascita del nuovo super comune metropolitano ad evitare ogni tentativo di melina. Il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno sottolinea che non c'è alcuna volontà di non rispettare il voto popolare ma che i tempi così ristretti non consentono una discussione serena rispetto alle cose da migliorare nella legge regionale in discussione e in commissione. Questa era una procedura che andava avviata nel 2014 è stata dimenticata nel cassetto e adesso si vogliono recuperare tre anni di disattenzione e di ritardo in tre giorni e questo è oggettivamente un problema insormontabile. Quello che gli è stato rappresentato è che il percorso che i cittadini hanno inteso avviare con il referendum del 2014 ha necessità di essere puntellato, di essere migliorato, di essere sostenuto adeguatamente e questo si può fare solamente con un'adeguata programmazione. Noi vogliamo che la scelta su cui si sono espressi i cittadini diventi una risorsa e non un incubo per i cittadini stessi, incubo che diventerebbe nel momento in cui si affrettano delle decisioni e soprattutto dei percorsi obbligati che necessitano di tempi per poter maturare. Noi vogliamo fare la nostra parte, tant'è che abbiamo già cominciato a suggerire dei percorsi virtuosi alla Regione e vogliamo che la Regione ci ascolte e ovviamente non dico andando a dilatare i tempi, andando a motivare ogni percorso e soprattutto essere coinvolto in questo percorso.